Compare la nuova città, la nuova città utopia in cui la stella cometa li porta. Questa nuova città utopia si chiama Gomocra e corrisponde perfettamente a Milano. Ci sono interi reggimenti, si può dire, di giovani tutti nudi, fermi, immobili, che aspettano qualcosa, non si è qualcosa di misterioso, come se fosse una cosa appunto in qualche modo istituzionale o religiosa. e assistiamo a una specie di invasione di Gomorra da parte di questi giovani barbari nudi. Ci buttano addosso le donne, lanciano sulle sottane e cominciano a toccarle i segni, a toccarle il sesso, a toccarle il culo, insomma, a impadronirsi di loro. Nella nostra favola Gomorra è l'utopia della città, della violenza, della brutalità, del neocapitalismo consumistico e quindi come tale si rappresenta. Secondo me la televisione è più forte di tutto questo e la sua mediazione ho paura che finirà per essere tutto. Il potere vuole che si parli in un dato modo ed è in quel modo che parlano gli operai appena abbandonano il mondo quotidiano, familiare o dialettale, in estinzione. In tutto il mondo ciò che viene dall'alto è più forte di ciò che si vuole dal basso. Non c'è parola che un operaio pronunzi in un intervento che non sia voluta dall'alto. Ciò che resta originario nell'operaio è ciò che non è verbale. Per esempio la sua fisicità, la sua voce, il suo corpo. La ferocia era terribile e all'antica. I campi di concentramento dell'urso, la schiavitù delle democrazie orientali, l'Algeria. Questa ferocia all'antica naturalmente permane ma oltre a questa vecchia ferocia c'è la nuova ferocia che consiste nei nuovi strumenti del potere. Una ferocia così ambigua, ineffabile, abile da far sì che ben poco di buono resti in ciò che cade sotto la sua sfera. Lo dico sinceramente. Non considero niente di più feroce della banalissima televisione. Io da telespettatore la sera prima e un'infinità di sere prima le mie sere di malato ho visto sfilare in quel video dove essi erano ora un'infinità di personaggi. La Corte dei Miracoli d'Italia. E si tratta di uomini politici di primo piano. Ebbene, la televisione faceva e fa di tutti loro. Dei buffoni. Riassume i loro discorsi facendoli passare per idioti con loro sempre tacito beneplacito. Ma... Oppure, anziché esprimere le loro idee legge i loro interminabili telegrammi non riassunti, evidentemente, ma ugualmente idioti. Idioti, come ogni espressione ufficiale. Il video è una terribile gabbia che tiene prigioniera dell'opinione pubblica servilmente servita per ottenere il totale servilismo. L'intera classe dirigente italiana. Tutto viene presentato come dentro un involucro protettore. Col distacco e il tono didascalico con cui si discute di qualcosa già accaduta. Da poco, magari, ma accaduta. Che l'occhio del saggio, o chi per lui, contempla nella sua rassicurante oggettività. Nel meccanismo che, quasi serenamente e senza difficoltà reali, l'ha prodotta. In realtà, nulla di sostanziale divide i comunicati della televisione da quelli dell'analoga comunicazione radiofonica fascista. L'importante è una sola cosa. Che non trapeli nulla mai di men che rassicurante. L'ideale piccolo borghese di vita tranquilla e perbene. Le famiglie giuste non devono avere disgrazie. Si proietta come una specie di furia implacabile in tutti i programmi televisivi e in ogni piega di essi. Tutto ciò escludi i telespettatori da ogni partecipazione politica. Come al tempo fascista. C'è chi pensa per loro. E si tratta di uomini senza macchia, senza paura e senza difficoltà neanche casuali e corporei. Da tutto ciò nasce un clima di terrore. Io vedo chiaramente il terrore negli occhi degli annunciatori e degli intervistati ufficiali. Non va pronunciata una parola di scandalo. Praticamente non può essere pronunciata una parola, in qualche modo, vera. Potete parlare liberamente di sesso, maternità, contraccezione, aborto, famiglia, prostituzione, scuola, infanzia, vecchiaia, mestruzione, e menopausa. Signore, signorina, bambina, vi aspettiamo. Buonasera. Dalla finestra, fin quassù, all'ottavo piano, arrivano le grida degli studenti. Grida disordinate, discordanti, convenzionali, perché le grida dei dimostranti hanno anche esse un codice, uno schema, con cui portare all'unisono la voce. Perciò, da lontano, le grida di ogni manifestazione di piazza sono uguali, ma la lontananza corregge, filtrandola attraverso lo spazio, così indifferente al senso di quelle grida di protesta, la loro scompostezza convenzionale e un po' volgare, le rende dolorosamente misteriose come venissero da un altro mondo, da un altro tempo. E già, da lontano, le grida dei dimostranti, oltre che essere tutte uguali fra loro nel tempo presente, sono anche uguali a quelle del passato, e queste potrebbero essere le grida di antichi fascisti o di dimenticati partigiani. Il mondo, ridotto a una cassa armonica che moltiplica per milioni di volte uno stesso sentimento. Non prendo bene questo lottare degli studenti per avere il diritto all'assemblea dentro la scuola. Perché dentro? Perché non tengono le loro assemblee nelle piazze, nei giardini, nelle soffitte? Perché pretendere ottenere dai superiori questa libertà e attuarla nelle sedi che non sono certamente per loro natura luoghi di libertà? Io so questo, che chi pretende la libertà poi non sa cosa farsene. Penso perciò che gli studenti dovrebbero lottare non per pretendere dall'autorità attuazioni di diritti, o perlomeno non solo per questo, ma per pretendere da se stessi di essere la parte più importante, reale, dell'opinione pubblica. Quel piccolo gruppo di idee deprimenti e avvilenti che un giovane rivoluzionario ha in testa come meta della rivoluzione, comprende naturalmente anche un'idea della scuola come servizio pubblico. C'è una grande disperazione dentro quella testa. La paura di perdere la presenza con la sistemazione. L'ansia piccolo-borghese per il domani. La fobia per la miseria e l'insuccesso. E' una specie di piccola e intensa malattia mentale tenuta nascosta, taciuta. Ma deve essere ben grave se è essa che presta l'immagine del domani migliore. Un domani in cui tutti avranno la casa assicurata, con gli ammessi beni di consumo e il denaro per acquistarli, in cui tutti andranno a scuola per impadronirsi della dovuta cultura, eccetera, eccetera. Io la domenica sento l'esigenza di vestirmi i beni, di andare in giro e farmi vedere la gente, capito? Non essere uno dei tanti, la gente deve dire a quello è un modo, quello è diverso da noi, capito? Devo farmi vedere la gente, devo emergere, capito? Perché tutta la settimana sono uno dei tanti. Almeno sabato e domenica voglio essere qualcuno, capito? Voglio che la gente mi veda e non essere uno dei tanti come potrebbe essere in Paninale che adesso sono uno dei tanti, un regolare che va in discoteca oppure una qualsiasi altra persona, hai capito? Io voglio essere diverso dagli altri e la gente deve capirla, hai capito? E poi io voglio essere, capito? Io lavoro, faccio lo schiavo ai signorotti, capito? Devo dire sì signore, no signore, faccio un pacchino, faccio le pulizie in questi uffici e devo fare sempre quello che vogliono loro, hai capito? Io la settimana dove è sabato e domenica posso entrare negli stessi alberghi dove entrano loro, posso entrare negli stessi cinema dove entrano loro e posso dirgli bastardo, tu hai fatto tutto il cazzo che hai fatto e io te l'ho messo in cuore, hai capito? Io con la mia giacca posso entrare nel stessi alberghi e nonostante non sono quello che sei tu, hai capito? La tolleranza è falsa perché in realtà nessun uomo ha mai dovuto essere tanto normale e conformista come il consumatore e quanto all'edonismo. Esso nasconde evidentemente una decisione a preordinare tutto con una spietatezza che la storia non ha mai conosciuto. decidere di farsi crescere i capelli fin sulle spalle oppure tagliarsi i capelli e farsi crescere i bambini decidere di mettersi una benda in testa oppure di calcarsi una scoppoletta sugli occhi decidere se sognare una Ferrari o una Porsche seguire attentamente i programmi televisivi conoscere i titoli di qualche bestembre vestirsi con pantaloni e magliette prepotentemente alla moto avere rapporti ossessivi con ragazze tenute accanto esornativamente ma nel tempo stesso con la pretesa che siano libere eccetera 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 tutti questi sono atti culturali ora tutti gli italiani giovani compiono questi identici atti hanno questo stesso linguaggio fisico sono intescambiabili in una piazza piena di giovani nessuno potrà più distinguere dal suo corpo un operaio da uno studente un fascista da un antifascista cosa che era ancora possibile nel 1960 guardi le foto degli studenti che sono i leaders pubblici del movimento o le foto degli studenti processati hanno le facce antipatiche dei loro padri borghesi o se sono simpatici lo sono al modo in cui lo erano i loro padri idealisti quelli che hanno fatto la resistenza sono venuti a rifare il mondo e manifestando se ne dichiarano all'altezza la forza è nella virilità come una volta ma la gentilezza è perduta tutto ciò che non si può significare per parole non è che pura e semplice forza ma quanta innocenza nel non sapere questo quanto bisogna essere giovani per crederlo perché sei qui? come ti chiami? Valerio Valerio? come mai sei qui? eh? la realtà è che è un ragazzo sceso qui dal nulla ed è il tutto nuovo lui fa subito in modo di difendersi contro la vera libertà e soprattutto un ragazzo che conosce e accetta i doveri ed egli manifesta la forza della sua accettazione meravigliosa adulazione del mondo rinasce sempre attraverso l'obbedienza alla grazia e può darsi può darsi obbedire ai doveri della rivoluzione manifestando semplicità e gioventù forme della natura è in voi che la libertà è rinnegata attraverso una serie infinita di doveri puliti innocenti doveri a cui manifestando si grida con aria minacciosa obbedienza che i semplici e i giovani sono forti e non sanno ancora di non poter tollerare la libertà